E bentornati carissimi ascoltatori, prima di iniziare la nostra intervista vorrei ringraziare Chef Rubio per aver accettato il mio invito, allora che dire, benvenuto Chef! Salve a tutti, grazie a Radio Android per l'invito. Bene, direi di iniziare subito con le domande. Oltre alla cucina hai altre passioni? Sì, oltre alla cucina ho passioni che spaziano dalla lettura, scrittura, fotografia, cinema, musica, insomma ci sono tanti temi che mi sono cari. Come nasce il tuo percorso da cuoco? Il mio percorso da cuoco nasce nel 2005, da lavapiatti, pochi mesi dopo da semplice comino, una cucina neozelandese e da lì poi ho fatto diversa strada e insomma, nonostante siano passati 11 anni, mi sento ancora all'inizio. Quindi non c'è tempo per fermarsi e non c'è modo di ritenersi appagati. Come nasce la tua passione per la cucina? La passione per la cucina nasce sicuramente da una componente genetica, da quella familiare e poi dal sociale, quindi tutte queste tre componenti unite fanno quello che sono oggi. Come... cosa ne pensi della tecnologia? La tecnologia è quell'aiuto che dovrebbe far fare lo scatto qualitativo ad una persona, ad una macchina affinché ci sia meno sforzo e maggiore qualità. Invece cosa ne pensi dei social network? I social network sono utili se la persona che li utilizza è intelligente, dotata di cultura, altrimenti sono estremamente pericolosi. Usi tanto lo smartphone? Usi tanto lo smartphone perché non ho computer e faccio tutto sul telefono, quindi Instagram, Twitter, Facebook, notizie, mail, Whatsapp, insomma tutte queste cose avvengono sul mio cellulare, per questo mi si incrociano ogni tanto gli occhi. Bene, qual è il consiglio che vorresti dare per un ragazzo o per una persona che vuole diventare cuoco? Ad una persona che vuole intraprendere il percorso di cuoco per arrivare poi a dirigere una cucina, quindi a diventare uno chef consiglio di domandarsi se è veramente quella la cosa che si vuole fare e di prepararsi a faticare tanto e a non smettere mai di studiare e di rapportarsi e confrontarsi con gli altri. Cosa pensi quando tante persone ti guardano, ti osservano in tv? Non ci penso a quello che succede dopo che finiscono le riprese perché per me quello è il lavoro e è finito appunto il set o la ricerca dei piatti. Se ho lavorato bene e sono a posto con la coscienza per me il lavoro è finito e quindi ne inizia un altro che quello di chi monta, di chi mette il palinzesto e non mi riguarda, quindi non ci penso. Penso al reale, mi piace farle le cose e non guardarle. Cosa pensi dei tuoi fan e qual è il rapporto che hai con loro? Rispetto maggiormente dei miei fan, insomma c'ho un buon rapporto, poi vecchi sempre quello un po' maleducato, comunque preferisci non farti una domanda ma domandarti solamente un selfie, ma fa parte dei tempi che corrono. Una vita senza cibo, anche se impossibile, come sarebbe? Non per me, per tutti quanti non sarebbe una vita, una vita senza cibo perché si morirebbe dopo sette giorni di agonia. Com'era Chef Rubio da bambino? Lo stesso che sono adesso, un tipo riservato, magari un po' meno timido adesso, mentre prima era molto più timido, però insomma le caratteristiche sono sempre le stesse, semplicemente più curate, più mature. Quali sono i tuoi traguardi futuri? Non mi sono mai posto a nessun limite, quindi non ci penso, preferisco focalizzare l'attenzione sul presente, su quello che faccio, poi dopo al massimo mi guardo indietro e faccio un sorrisetto se ho fatto qualcosa di buono, ma non sono di facili entusiasmi. Bene, questa era la nostra ultima domanda Chef, io ti ringrazio per aver accettato il mio invito, allora che dire, alla prossima, ciao Chef! Grazie a voi e saluto tutti gli amici di Radio Android e ciao Mario!